Sindaco De Vincenzi, giornata importante per l'unità spinale, per l'ospedale Santa Corona di Pietraligure, in arrivo novità per il futuro importanti. Credo che oggi veramente sia un giorno importante, credo che dalle parole del Presidente Totti si è percepita una cosa molto chiara, un impegno a investire risorse pubbliche su Santa Corona già dal 2020 e risorse pubbliche importanti. Quindi la considerazione che ha fatto il Presidente Totti di considerare il Santa Corona come il secondo hub della Liguria dopo San Martino, credo che sia importante. Erano anni che non venivano di dire queste cose, credo che sia un bel segnale averle sentite dire e speriamo che queste vengano attuate. Io credo che su Santa Corona bisogna cominciare ad investire e alla mia richiesta specifica il Presidente ha confermato tutte queste cose. Quindi credo che staremo a vedere, che terremo molti dorati queste cose, ma certamente pensiamo che a queste parole molto rapidamente seguano dei fatti.